La voce calda Ora, è semplice, avete le mascherine, bravi, molti di voi ce l'hanno perlomeno, per riuscire a farvi sentire da noi, quindi dovete urlare ancora più forte, e ora canterete un po' con il canteretto, urlerete, sarà qualcosa di animale, atavico, quindi un ultimo urlo prima di mettervi in musica. Uno, due, tre! 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 Uno, due, tre!